aho bella raga eccoci qua tornati con un nuovo video quest'oggi vi porto incredibili e prime 20 bombe su pc incredibili 23 kills ragazzi quindi tanta roba lo vedrete con la stretcher e tra l'altro sarà il primo video ragazzi editato da pc è incredibile dopo 5 mesi ci abbiamo fatta stavo ancora capendo come funziona il programma ma ci siamo quasi ragazzi quindi io vi ricordo lasciare nezac trattino basso tutto maiuscolo come codice supporto lasciare un bel like commentare chiedendomi dei consigli se volete parliamo un po commentate con qualsiasi cosa vogliate basta che commentate commentate anche con una lettera basta che non spammate fate quello che volete ragazzi seguitemi su instagram link in descrizione seguitemi anche su twitch metterò anche anche twitch in descrizione perché a breve nel live inizieremo a farle lì quindi bella raga altri non è vero c'è questo mi ha fatto headshot con la balestra non è vero c'è questo mi ha fatto ah oh bella bot come state bot e gg e gg e gg man quindi guarda gli scudi oh ecco qua grazie ma che cazzo è? che è? c'è una come cazzo è? cazzo è? oh fuck dove sta? cazzo è un materiale questo eh finiti manca uno all'appello cazzo è? oh oh non è bene è stata la save è è è è è va ciò si vuole c'è qualcuno? che bella gente Dei Eee Dicò 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 Che bot Che bot Che buff Oh basta Mi hai rotto il cazzo Stop Quanti ne hai? Due Non c'è che farò così Ma c'è qualcuno? Vediamo un po' Non c'è nessuno Sotto C'è un cazzo di nessuno Va A casa Però mi hai rubato l'altro prota Mi hai rubato lui Eee Eee Venetevela coi muri Venetevela coi muri Ehi 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 Muri grazie Io devo volare qua Vediamo Vediamo se c'è qualcuno di qua Ok Viste Andiamo a prendere loro Andiamo a prendere loro A Sfora Vediamo Pologajo Vediamo Solizini Isla Midy Così Vediamo 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 Poi ma perchè sta percibendo? Vabbè ma basta me Oh Tu su 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 Sì Non l'ho fatto a cercarle Parato in faccia Ora l'ho animato sicuro Sì 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 No Sì 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 Grazie a tutti.